Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono 2 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze e rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. In A1 per un incidente avvenuto al km 391 e 700 adesso ci sono 2 km di coda tra Chiusichianciano e Valdichiana in direzione Bologna. Rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Roma e tra Incisa Reggello e Firenze sud verso Bologna. In A11 in direzione Firenze e code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!